Buongiorno, un caro saluto da Francesco Samani ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace e di condividere il link del video per poter creare sempre una community più grande, più forte di mutuo aiuto e di supporto allora non posso esimermi dal rispondere alle richieste che mi sono arrivate sono tutte richieste relative alla prova preselettiva scusate, oggi fa molto caldo e sono un po' stanco prova preselettiva inerenti al concorso 2020 e essenzialmente riguardano l'attività di logica allora questa volta siete stati molto bravi nel mandarmi direttamente gli screenshot e io mi sono già preparato le varie tracce proposte dal ministero dell'interno quindi la prima è questa adesso le rivediamo velocemente insieme e poi le commentiamo allora la prima traccia è complicare correttamente la successione la seguente successione utilizzando l'alfabeto italiano E79R67F55S43 e ce ne sono altre due ok ho fatto qui gli screenshot tutti i medici sono laureati Leonardo è laureato tutti i laureati hanno un buon lavoro in base alle presenti affermazioni quella dei seguenti non è necessariamente vera ovviamente quella dei seguenti affermazioni non è necessariamente vera vedremo perché quella non vera non necessariamente vera Leonardo che è un medico e in ultimo lo prendo qui dalla cartella ok completare un'altra successione benissimo allora adesso che visualizzate quanto me quello che mi avete mandato cominciamo allora abbiamo esercizio 1 abbiamo una successione H scrivo un doppio colore con un doppio colore 111 mazza scritta enorme L 93 N 75 vediamo se entra lo stesso punto interrogativo 57 R punto interrogativo quindi punto interrogativo 57 R punto interrogativo allora quando abbiamo a che fare con le successioni badate state attenti non è la prima non sarà l'ultima volta che accade ci possono essere diciamo all'interno della successione ci sono possono essere più successioni cioè le più successioni sono queste H da H vado a L da L vado a N da N vado a non so da non so vado a R vediamo come rispondere H I L quindi sembrerebbe che al posto del 111 cioè c'ho H I L M N O P Q R quindi probabilmente la risposta giusta è quella che inizia con P dopo di che vediamo qual è la relazione numerica 111 ma per 111 allora siccome è decrescente questa successione probabilmente ci sarà sempre una sottrazione e la sottrazione che ci sarà probabilmente è 111 è il numero di 111 meno 93 quindi 93 e 7 100 e 11 111 quindi è 18 meno 18 93 meno 18 75 meno 18 57 meno 18 39 perfetto allora vedete che la risposta esatta è P 39 allora penso che allora in alcuni esercizi mi avete detto che ho corso sono andato troppo rapidamente in altri mi avete detto ci è andato troppo lentamente ci è messo troppo io diciamo che per regolarmi e diciamo rispondere a tutti preferisco metterci qualche secondo in più però magari dare la spiegazione di tutti i passaggi perché ovviamente l'esercizio è già finito però non è che se io impiego un minuto in più nel descriverlo vuol dire che il tempo per risolvere l'esercizio aumenta cioè voi sicuramente avete posto posto di dubbi circa la rapidità di esecuzione perché avrete pochissimo tempo questo su questo non c'è dubbio non c'è dubbio che studiare con questo caldo e considerando tutto quello che c'è stato non è facile però è anche vero che magari all'interno di queste capacità logiche non è che cioè diciamo che sono capacità logiche e intrinsecamente matematiche quindi è ovvio che chi può io dico in linea tendenziale tendenzialmente accadrà che chi ha una laurea in filosofia o piuttosto che in architettura piuttosto che in lettere potrebbe avere qualche difficoltà in più rispetto a risolvere questi esercizi rispetto a chi ha una laurea in materie scientifiche andiamo avanti accorpiamo le due successioni insieme quindi facciamo la prima e la seconda riutilizzo il colore bianco e quindi anche qua chiede di completare la successione E 7 9 R ci sono tutti punte virgola io li sto mettendo R 67 F 55 S 43 punto interrogativo punto interrogativo allora qui addirittura di successione ce ne sono tre perché guardate A B C D E da E ad O F da F andrò a G qui se ci fosse stata un'altra successione R S P però io ovviamente mi devo fermare a questa cioè prima c'ho la successione che segue in mani diciamo l'alfabeto italiano E F G e quindi qui avrò una G e qui c'è un'altra successione R S P ma non mi interessa perché vado oltre e qui c'è un'altra successione numerica quindi una successione alfa numerica in totale globalizzando sommando tutte le successioni che ci sono le sottosuccessioni ce ne sono tre di sottosuccessioni 79 anche qui decrescente 67 55 43 e qua risulta evidente che si sottrae sempre 12 79 meno 12 67 meno 12 55 meno 12 43 meno 12 31 e quindi G 31 tra l'altro nella foto non si vedeva qual è la soluzione quale fosse quale sia la 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 risposta corretta però adesso cioè a mio avviso è questa datemi come feedback la risposta alla ditemi sì che hai fatto l'esercizio in maniera corretta oppure no non è sbagliato questa risposta io credo che sia corretta attenzione qui ci sono tre ce ne sono tre di successioni ma è molto rapido capirlo perché perché correlare e con r ed r con f diventa estremamente faticoso mentre 79 67 55 43 lo si può fare sono distanzati in maniera simmetrica questi numeri quindi ovviamente c'è una sottrazione di un ugual numero ossia meno 12 che si ripete si reitera ad ogni successione benissimo vediamo ancora un altro esercizio in questo caso di logica scritta allora io suggerisco non è obbligatorio di pensare anche a mente con i diagrammi di Oleroven allora tutti i medici sono laureati quindi che cosa accade allora mi prendo proprio un foglio intero allora io qua ho i laureati e all'interno dell'insieme di laureati avrò i medici allora tutti i medici sono laureati Leonardo è laureato ma Leonardo noi non sappiamo almeno finora dove inserirlo sicuramente dentro l'insieme dei laureati tutti i laureati hanno un buon lavoro quindi se tutti i laureati hanno un buon lavoro quindi qui c'è un altro insieme più grande perché non è detto che solo i laureati abbiano un buon lavoro buon lavoro lavoro cioè all'interno di chi ha un buon lavoro ci sono i laureati cioè tutti i laureati sono all'interno di chi ha un buon lavoro e tutti i medici stanno all'interno di chi è laureato e sappiamo che Leonardo è laureato quindi Leonardo si trova qua ma si può trovare può essere sia un medico sia no quindi io per ora per comodità lo scrivo fuori però ripeto nulla vieta lo faccio tratteggiato che Leonardo si possa trovare anche tra i medici leggiamo bene la traccia e attenzione cambia anche un pochettino la scrittura dice in base alle precedenti affermazioni quelle quali delle seguenti non e lo mette tutto in maiuscolo è necessariamente vera quindi dobbiamo ragionare al contrario quella che non è per forza vera chi non ha un buon lavoro non è laureato assolutamente allora chi non ha qua e con allora tutti i laureati hanno un buon lavoro chi non ha un buon lavoro non è laureato le due negazioni continuano ad essere vere Leonardo può essere un medico e certo l'abbiamo detto prima è un laureato potrebbe essere un medico potrebbe essere un ingegnere Leonardo è un medico assolutamente non lo possiamo dire con certezza è impossibile che Leonardo non abbia un buon lavoro essendo laureato Leonardo si trova nel sotto insieme dei laureati che a loro volta si trovano nel tra coloro che hanno un buon lavoro Leonardo ovviamente ha un buon lavoro e quindi è impossibile che non lo abbia cioè anche qui doppia negazione è un'affermazione vera quindi in questo caso la risposta che io vedo trovo corretta è che Leonardo io trovo corretta nel senso Leonardo è un medico chiede quale delle seguenti affermazioni non è necessariamente vera quindi quella che non è necessariamente vera è il fatto che Leonardo sia o debba essere assolutamente in maniera assolutistica un medico assolutamente questa frase non la si può considerare vera allora bene io ringrazio soprattutto coloro che mi stanno seguendo anche perché ieri non sono riuscito a pubblicare un video ho difficoltà anch'io a trovare i tempi insomma per fare le registrazioni è vero sono sempre in diretta quando faccio i video però insomma il tempo di rispondere a tutti più il tempo che devo dedicare al mio lavoro ed ecco che di tempo poi ne rimane poco quindi io ringrazio soprattutto coloro che stanno intervenendo attivamente nel nei video nella community nel canale nei commenti mi scrivono propongono suggeriscono e vedo veramente che ci sono persone estremamente anche anche ci sono persone estremamente intelligenti che pongono domande estremamente intelligenti e più di qualche volta sta accadendo che non c'è nemmeno bisogno che la risposta la dia io a queste domande intelligenti perché ci sono risposte altrettanto intelligenti e quindi vedo che si sta creando piano piano questa io ho usato questo termine quasi di community cioè una comunità comunque un raggruppamento di persone che si hanno come obiettivo quello di prepararsi in maniera adeguata al concorso però vogliono perseguire questo obiettivo o cercano di perseguire questo obiettivo anche con il mutuo aiuto ovviamente questa cosa non è facile da gestire però noi ci proviamo anche perché questo è un canale di istruzione un canale culturale e a mio avviso in questa fase storica e sociale a mio avviso tutto ciò che cultura fa proprio bene al nostro paese io con questo vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buona giornata un caro saluto da Francesco Samani